Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e il presidente della Camera di Commercio Andrea Sereni l'accordo attuativo del protocollo di intesa per la realizzazione del percorso espositivo dei tesori di Arezzo. Una sede prestigiosa, quella della firma, ovvero il Palazzo di Fraternita, dove al piano terreno il percorso fino a settembre, introdotto dal bronzo della Minerva, è già articolato in più sale. Diciamo che è l'atto finale del protocollo di intesa firmato anche insieme a Regione, ovviamente Camera di Commercio, Comune e Arezzo Fieri Congressi a dicembre, che stabiliva i ruoli di ciascuno in questa bellissima iniziativa che è la Casa dei Tesori di Arezzo. E quindi questo investimento da parte della Camera di Commercio credo che porterà bene al museo, che io continuo a chiamare il Museo dell'Oro ma non si dovrebbe, ma soprattutto alla nostra città perché da questa iniziativa, in questo prestigioso palazzo, in questa bellissima piazza, può veramente produrre ricchezza aggiuntiva, come già sta facendo, ma ancora meglio si può fare. In base all'accordo la Camera di Commercio si impegna ad erogare 180 mila euro ripartiti in tre annualità a favore del percorso espositivo, in vista dell'ampliamento degli allestimenti e di una loro maggiore promozione e valorizzazione. Facciamo un altro passo avanti all'interno di un percorso di promozione turistica del nostro territorio, della nostra provincia e soprattutto un riconoscimento, direi un tributo ad un comparto, il comparto orafo argentiero che negli ultimi 50 anni ha determinato davvero il volto, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale della nostra città. All'interno di quello che io continuo a chiamare il Museo dell'Oro si trovano le eccellenze, si trova un percorso di crescita cronologico che un occhio attento può ben individuare, che hanno portato i prodotti del nostro territorio ad essere davvero delle eccellenze a livello globale.